A Padova nasce un servizio predisposto dal Comune per aiutare i cittadini a ritrovare il proprio animale smarrito o per chi ne trova uno ad aiutare a ritrovare il padrone. Lo sportello SOS Animali è un progetto nato dalla collaborazione tra l'attuale amministrazione e le associazioni animaliste iscritte al registro comunale di Padova, questo per favorire una corretta convivenza tra esseri umani e animali da affezione e selvatici che in misura, sempre maggiore, condividono l'ambiente urbano. Chi ha ritrovato o smarrito un animale può contattare lo sportello SOS Animali o inviare all'indirizzo sos.animali.chiocciolacomune.padova.it una foto e una breve descrizione dell'animale, il luogo di ritrovamento o smarrimento e i propri contatti. Lo sportello si trova a Palazzo Moroni, presso l'ufficio relazioni con il pubblico. È aperto con orario estivo il martedì e giovedì dalle 9 alle 12 di pomeriggio su appuntamento. I cittadini potranno avere anche informazioni a vario titolo, su vaccini, progetti, tutela, eccetera. Oltre alla pagina internet dedicata agli animali smarriti e ritrovati, ce n'è anche una dedicata all'adozione degli animali, cani, gatti e addirittura tartarughe d'acqua. L'amministrazione ha inoltre istituito il servizio di Ospice per cani in collaborazione con il canile di Rubano. È rivolto a tutte quelle persone che sono temporaneamente impossibilitate a occuparsi del proprio cane, come ad esempio le persone ricoverate o che devono necessariamente assentarsi senza la possibilità di portare con sé il proprio animale. L'amministrazione ha inoltre. Grazie. Grazie. Grazie.